in questo corso ti insegnerò a gestire l'inclinazione dell'oggetto 3d l'inclinazione con cui disponi l'oggetto sul piano è fondamentale è possibile ruotare l'oggetto quindi di 360 gradi per ogni asse ecco che sotto l'asse z posso ruotarlo di 360 sotto l'asse y di 360 x di 360 ecco quindi che ci sono una marea di combinazioni possibili una marea di inclinazioni che tu puoi provare per riuscire a ottenere tutti i tuoi pezzi l'inclinazione serve per ridurre l'effetto della gravità l'effetto della gravità dall'alto verso il basso precisamente con un punto ben preciso tutto viene attirato quindi tutto assuma un peso e tutto va verso il basso ecco quindi che anche il materiale che viene estruso tende a cadere leggermente verso il basso pur poco che pesi comunque una lieve attrazione ci sarà ecco quindi che le inclinazioni non oltre i 65 gradi possono tenere quindi tutti gli oggetti che sono inclinati e quindi come angolo di sbalzo hanno meno di 65 allora la gravità non è che non avrà effetto ma il materiale verrà completamente saldato all'oggetto la saldatura non farà cadere il materiale ecco quindi che ho importato il modello 3d che utilizzeremo da esempio per farvi capire come inclinare correttamente gli oggetti la prima volta primissima che ho stampato questo oggetto l'ho lasciato in questa inclinazione ho messo un po di supporti qua sotto il pezzo è uscito sopra che era la parte importante è uscito piuttosto bene sotto è uscito molto molto male ecco quindi che non sono andato avanti ho cambiato inclinazione direttamente durante la prototipazione ho posizionato il progetto in questa inclinazione utilizziamo un profilo esempio che ho creato uno scorso video che è componente estetico facciamo doppio clic andiamo a vedere la disposizione dei supporti se sono attivati o no e attiviamo i supporti su tutta la superficie su tutta la superficie tenendo uno scostamento x y di almeno un millimetro e utilizzando un riempimento piuttosto spesso tenete sempre un riempimento a linea salva effetto lo slicing vediamo come l'ho stampato le prime 20 25 30 volte questo quindi non è un video in cui configuriamo un profilo è un video in cui ti faccio vedere come inclinerò questo oggetto al fine di ottenere meno supporti possibili perché è un componente anche estetico l'avevamo stampato in questa inclinazione avevamo utilizzato dei supporti e settati in modo che tutto venisse bene se non sbaglio aveva lasciato forse anche un po più di aria qua poco importa in qualsiasi caso questa soluzione qua rendeva brutto il pezzo nel tirarvi i supporti rimaneva tutto puntinato e poi anche la presenza dei supporti su tutta l'altezza di questo oggetto qua creava dei piccoli buchi quella i supporti sicuramente se non ci sono è meglio se ci sono bisogna stare attenti perché potrebbero rovinare anche le pareti del nostro oggetto 3d ecco quindi che questa inclinazione si ci garantiva comunque una buona riuscita una buona qualità superficiale sicuramente su tutto quello che vedete il rosso però ultimamente ho modificato il mio modo di lavorare ho quindi messo in discussione i profili che avevo creato anche le inclinazioni che mi ricordavo e quindi ho cominciato a inclinare i progetti 3d inclinarli in modo da sfruttare l'angolo a 90 che in questo caso questo cilindro a e quindi renderlo da 0 a 90 gradi a 45 45 o una via di mezzo a 65 e 25 ecco quindi che inclinando l'oggetto in questa direzione potrò dire alla stampante di mettere i supporti per esempio qua in questo punto di non metterli mettendo i supporti solo dove tocca col piano di stampa quindi è la prima volta che vediamo il supporto dove tocca col file da stampa quindi lo metterà solamente qua potrebbe metterlo anche qua ma gestiremo i gradi nel modo giusto andiamo quindi in avvia slicing andiamo in componente estetico doppio clic andiamo nella disposizione dei supporti e mettiamo subito dove tocca col piano di stampa solo a contatto col piano di stampa la percentuale di riempimento la mantengo comunque fissa l'angolo massimo di sbalzo lo decidiamo solo dopo aver visto lo slicing entriamo in slicing vediamo dove ha messo i supporti vedete che in questo momento non c'è nessun angolo che è più inclinato di 65 gradi ecco perché quindi dovrò inclinare maggiormente il mio oggetto poco lo inclino e dentro ancora in slicing perfetto quindi quello che volevo farvi vedere ve l'ho fatto vedere sono riuscito gestendo sia l'inclinazione dell'oggetto sia l'angolazione dei supporti questo oggetto e quindi il g code che sto stampando proprio in questo momento non avrà questa esatta inclinazione l'ho trovata manualmente e sono stato semplicemente attento a mantenere degli angoli non troppo inclinati quindi questo angolo qua forse potrebbe reggere sì quindi questa parte che vedete crescere ma potrebbe anche non reggere ecco quindi che è possibile apportare una leggera modifica e quindi facendo ctrl z l'angolazione buona che secondo me all'inizio era ottima perché vedete che questa parete qua è meno inclinata e quindi farà meno fatica a salire quindi all'interno di supporti posso disporre i miei supporti a un angolo a sbalzo di 65 gradi non so se questo è perfettamente 45 e 45 prima con 65 quando me l'ha messo mettiamo ora 55 gradi e vediamo cosa succede i supporti solo a contatto col piano di stampa crea supporti automatici ecco che mi si è creato il supporto automatico solo dove volevo io è possibile anche impostare all'interno dello slicer un angolo a sbalzo a 55 gradi è possibile quindi disporre i supporti sia da slicing sia manualmente per correttezza nei vostri confronti visto che sto stampando proprio in questo momento l'oggetto vi farò vedere successivamente alcune immagini un video dell'oggetto che sto stampando per farvi vedere esattamente l'inclinazione che ho trovato non è semplice lavorare in questo modo ovviamente bisogna gestire bene gli spazi fra i supporti e bisogna avere la garanzia che questo rimanga attaccato ai supporti quindi la parte piana che ora non vedete che sarà supportata sarà sicuramente la parte più rovinata di tutto l'oggetto non è un problema se rimane molto attaccato il supporto comunque secondo me verrà via facilmente non ho problemi a staccarlo basta una pinza e in blocco unico viene via una leggera carteggiata e poi dietro li va attaccato tipo un piatto un piano e diventa una bobina ci sono due cilindri laterali molto più grossi di diametro più grosso di questo tamburo e creano una bobina su cui si avvolgono dei fili ogni mese capita un oggetto un po' particolare un oggetto a cui va data quell'inclinazione particolare in realtà uno al mese è veramente poco secondo me circa uno o due alla settimana me ne capitano ho preso un pezzo che sto quindi riproducendo per un cliente è un mock up e quindi un portapenne composto da anche la parte che vedrete nel tutorial però vi farò vedere come stamparlo al meglio possibile la prima volta che ho stampato questo oggetto qua l'ho tenuto orizzontale abbiamo riprodotto anche la seconda volta sempre nella stessa inclinazione ve lo farò vedere quindi orizzontale però c'erano veramente tanti supporti ecco che quindi la rimozione di supporti era impegnativa ma oltre a essere impegnativa rimanevano segnate questi supporti tenevano segnato l'oggetto il pla sapete benissimo si segna si rovina anche gli altri materiali sempre meglio quindi non avere supporti se questo video ti è stato utile condividilo metti un like fammi sapere cosa ne pensi fammi sapere quindi se riesci ad applicare questi concetti non esiste un programma automatico che ti dirà come disporre l'oggetto l'unico automatismo che si può inserire nel nel sistema oggi per me è quello di educare chi progetta a dare l'inclinazione di stampa corretta l'avevo già detto in un video secondo me chi progetta ha maggior ragione oggi deve considerare di stampare l'oggetto e orientarlo nello spazio proprio nel modo in cui la stampante 3d lo stamperà meglio ovviamente l'inclinazione di stampa andrà bene per il filamento un'altra inclinazione di stampa andrà bene per la resina e via via secondo me i progettisti se progettano qualcosa relativo al filamento dovrebbero già cominciare a farlo guardando i miei tutorial guardando i miei video vedendo come ho disposto gli oggetti eventualmente chiedendo anche a me collaborazioni o semplicemente rapidi consigli ricorda l'inclinazione di stampa è fondamentale per ottenere degli oggetti belli e resistenti alla prossima grazie a tutti 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 grazie a tutti